Per tornarti su Fairplay, finalmente Milena Bertolini, la CT della Nazionale Italiana di Calcio, ha diramato la lista delle calciatrici che porterà con sé al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda, che si disputerà dal 20 luglio al 20 agosto. Ecco tutti i nomi. Portieri Rachele Baldi Francesca Durante Laura Giuliani Difensori Elisa Bartoli Lisa Boatin Lucia Di Guglielmo Maria Filangeri Martina Lenzini Elena Linari Beatrice Merlo Benedetta Orsi Cecilia Salvai Centrocampiste Arianna Caruso Valentina Cernoia Giulia Dragoni Manuela Giuliano Giada Greggi Emma Severini Attaccanti Chiara Beccari Barbara Bonansea Sofia Cantore Valentina Valentina Giacinti Cristiana Girelli Benedetta Lionna Anna Maria Serturini E questo è tutto per ora. Noi ci rivediamo sempre qui su Fairplay. Storie di calcio, storie di vita. Forza Azzurre. Noiier. Ciara backi, storie di San Vario. Noiier.